No, con Draghi non abbiamo avuto occasione e sul tema Mediaset credo che il governo abbia detto ieri molto chiaramente due cose. La prima è che si tratta di un'operazione di mercato, quindi non è un'operazione che coinvolga direttamente i rapporti tra stati, ma contemporaneamente abbia espresso il governo una valutazione critica sulle modalità ostili e abbia anche manifestato come si può dire una vigile attenzione vista la natura del settore di cui parliamo, sia il settore Mediaset e quindi audiovisivo, informazione, comunicazione e sia il settore telecom, telecomunicazioni e le possibili aggregazioni tra i due settori. È tutta una materia regolata da diverse norme che è giusto che il governo guardi con attenzione.